Grazie Giovanni del Mangiaweb per essere venuto a trovarci, qui siamo a Novidigore in provincia di Alessandria, io sono Fabio Bergaglio insieme a mia sorella Paola, titolare dell'azienda Bodrato Cioccolato. Il territorio dove si trova la nostra azienda è particolarmente importante sotto il punto di vista della produzione del cioccolato perché oltre a noi ci sono diverse realtà di produzione di cioccolato più o meno grandi. Vicino a noi ci sono tante bellissime realtà di produzioni tipiche, quindi abbiamo tutti i colli tortonesi con i loro vini, con i loro formaggi, con i loro salumi, tutta la zona del Gavi con i loro vini, le loro tipicità ed è un territorio tutto da scoprire. Ma ora veniamo a noi e Giovanni ti faccio vedere un po' cosa facciamo, cosa produciamo e come vengono fatti i nostri cioccolatini e soprattutto i nostri boeri che sono imperdibili.